Questa sera alle 18, come ha spiegato il Sindaco, ci sarà questa celebrazione con il Vescovo di Trento e il Vescovo di Vicenza. Sarà il momento per dare il cordoglio, e questo è anche il cordoglio che come provincia di Trento vogliamo dare a tutte le famiglie. Sarà il momento di dare il cordoglio a tutte le persone che oggi possiamo dire di avere identificato. Sarà un momento di preghiera e di forte commozione. Io voglio ringraziare tutti coloro che ancora stanno lavorando in questo momento, le istituzioni dello Stato, le istituzioni della provincia autonoma di Trento, i volontari che hanno fin qui lavorato e che lavoreranno ancora nei prossimi giorni. Grazie. Grazie.